Bravissimi, grazie. Ci fermiamo un attimo con la scaletta e un minuto perché ci è venuto a trovare il Vescovo di Casetta, Pietro Lagnese. In questi giorni meditavo un'espressione molto bella di Giovanni XXIII che in una storica enciclica, la pace minteris, definisce la guerra cosa fuori di ogni ragione. Alienum arationem bellum. La guerra è cosa da persone fuori di testa. Noi dobbiamo gridare che la guerra è una vergogna. E voi lo state gridando anche attraverso questa esperienza, questa maratona di questa sera, di artisti che si stanno esibendo dalle 17 qui su questo palco. E mi sembra il modo più bello, attraverso anche la concreta solidarietà che da questa serata viene fuori, il modo più bello per dire no a ogni forma di violenza, di sopraffazione, a ogni forma di guerra. Combattiamo la guerra con l'arte, con la musica, con la poesia, con la danza, con la bellezza. Combattiamo la terra con la cultura. Voi state facendo questo questa sera. Abbiamo bisogno di questo. Noi siamo grati al coordinamento degli artisti casertani per questa serata. Siamo grati perché attraverso questo momento si vuole esprimere anche concretamente la solidarietà al popolo ucraino, al quale ci sentiamo profondamente legati. Siamo tutti legati a un grande abbraccio al popolo ucraino e a tutti gli ucraini che stiamo accogliendo qui a Caserta, nelle nostre strutture, attraverso la Caritas Diocesana, alla quale avete deciso di destinare la vostra offerta, il vostro contributo per il bene di coloro che profughi scappano dalla loro terra. Noi speriamo e preghiamo che possano ritornare nella loro terra un giorno e che di nuovo in quella terra si torni ad ascoltare non il rumore delle sirene e delle bombe, ma la musica, i canti come noi questa sera stiamo ascoltando grazie a voi. Auguri a tutti allora e grazie. Grazie, grazie veramente di cuore. E che la bellezza salvi il mondo. Continuiamo.